Mamma mia, come me sento arrapato. Oggi torno a vedere il Consiglio Comunale. Porca miseria, sono i 5 e mezza. Mannaggia la miseria, sono ritardo. Ufficio stampa comune di Fraschetti. Il Consiglio Comunale, ecco qua. Ma ha diretto streaming, c'è? Mannaggia la miseria. Ma dimmi tu, ma dimmi tu. Manco oggi. Ma come mi hanno rimesso in bonus? Guarda, addirittura posso fare i commenti sull'ufficio stampa. Oddio mio, oddio mio. Ma questi ci stanno proprio a prendere per il culo.